Diciamo anche degli arbitri Enrico Bartoli di Trieste e Demi Squarta di Rivalta di Torino. Siamo partiti, palla in mano a Toto Forrei e subito la prima penetrazione è di Trento, così come il primo canestro di Luigi Tordei, esplodono i coriandoli sulla curva trentina, le coreografie sono di Mario Liguori, il capo ultra che molti avranno visto anche nella pallavolo, ha preparato mille bandierine bianconere, 500 batti mano,